L'uso regolare e prolungato dell'aspirina riduce l'incidenza e mortalità del tumore del colon retto, ma solo adesso una ricerca italiana ha scoperto anche che questo accade perché il farmaco attiva la risposta del sistema immunitario contro questa forma di tumore. A dirlo i dati di uno studio coordinato dall'Università di Padova, i cui risultati sono stati pubblicati di recente sulla rivista Cancer. La nuova sfida è adesso individuare le dosi ottimali di aspirina per ottenere la maggiore efficacia. Dovremmo pensare a come garantire che l'aspirina raggiunga il tratto colon retale in dosi adeguate per essere efficace, ha spiegato Marco Scarpa del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche dell'Azienda Ospedaliere dell'Università di Padova, che ha coordinato i 14 gruppi di ricerca grazie al finanziamento della Fondazione AERC per la ricerca sul cancro.